ciao come state tutti bene siamo di nuovo insieme per darci l'appuntamento per domani con i nostri di nili essi l'appuntamento classico del martedì che ci aiuta a raccontare un po' quelle che sono le storie legate a questi vinili e andando nell'archivio insomma cercando scartabellando un po ne ho trovato uno che mi ha fatto venire in mente che poteva essere la nuova puntata di domani cioè raccontare quelli che sono i tributi quelli che sono stati fatti come tributi in questo caso abbiamo a un tributo a col porter da grandi altri artisti quindi vado cercando ancora qualcuno ma se ne avete qualcuno da suggerirmi beh non dovete far altro che scriverlo sotto e così domani ci ritroveremo insieme per un altro appuntamento dedicato alla musica mi raccomando vi aspetto è non mancate alle 9 30